Scontro tra alleati del centrodestra in regione. La Lega va all'attacco dell'assessore regionale Elena Donazzan, unica ad aver preso le parti del governo di Madrid dopo il voto in Catalogna. Avrebbero dovuto arrestare il presidente catalano, ha dichiarato la forzista bassanese, l'eversione separatista va repressa. Non ha tardato a criticare asparamente l'alleato Nicola Finco, capogruppo della Lega in regione. Non condivido nulla di quanto ha detto la Donazzan, sappiamo che la sua linea politica è fascista, ma giustificare la violenza in questo modo è una follia. Dello stesso tenore la reazione dell'assessore regionale leghista Roberto Marcato. Non esiste che alla voglia di esprimersi di un popolo si risponda con manganelli e pallottole. Giusta la repressione? Io non sono affatto d'accordo. Ancora più duro il commento di Roberto Agirmo di Indipendenza Noi Veneto. La signora Donazzan forse dimentica la parola democrazia, che ha una desinenza ben precisa. Democrazia vuole arrivare da demos e crati, ossia potere al popolo. Evidentemente ha dimenticato che il popolo ha il potere anche di dire le sue opinioni, di dare le sue opinioni. Nel momento in cui va a avvallare da parte dello Stato spagnolo l'uso della violenza, perché così ha fatto, nella sua dichiarazione ha avvallato l'uso del manganello. A me risulta che questa qui sia una forma di, se volete chiamarla fascismo, se volete chiamarla comunismo, che tanto non sono molto distanti gli uni dagli altri onestamente.